Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Benvenuto professore. Salve, un caro saluto a tutti e a tutte. Professor Novara, si parla tanto di integrazione a scuola, ma una recente proposta di legge ha riacceso il dibattito sulla scuola come strumento di integrazione e di riconoscimento della cittadinanza ai giovani stranieri che vivono in Italia. È giusto dire che l'istruzione è uno strumento indispensabile per costruire una società migliore? Assolutamente. A prescindere dal dibattito, gli ussoli, gli usscole, è indubitabile che l'istituzione scolastica rappresenta un fattore di straordinaria integrazione, perché in quel modo i bambini e i bambine si inseriscono. Ho sostenuto, per esempio, che anche l'apprendimento della lingua deve essere un fattore sociale e non legato a insegnanti specifici. Non sono d'accordo su questa iniziativa per cui i nuovi alunni, magari provenienti da altri paesi, devono essere seguiti da insegnanti specifici per l'apprendimento dell'italiano. No, noi sappiamo dal punto di vista scientifico che è il full immersion che consente di favorire questo assorbimento linguistico. Allora bisogna fare attenzione per evitare le cosiddette scoleghetto, dove si crea una risacca unicamente per bambini stranieri, in quanto, come dire, gli autottomi italiani non mandano i loro. Questo non va bene, non va bene assolutamente. Io vivo in una città, Piacenza, dove abbiamo anche il nostro istituto, l'abbiamo anche a Milano, noi intendiamoci, poi lavoriamo in tutta Italia, però la città di origine, Piacenza, ha il 42% di alunni della scuola primaria non di origine italiana. Se poi a questi aggiungiamo quelli che hanno già la cittadinanza, comprendiamo che qualsiasi figliolo oggi ha una possibilità su due, come dire, di mettere su famiglia con una compagna a compagno, non di nazionalità strettamente italiana. Occorre quindi uscire da questa pastoia burocratica, sono delle pastoie orribili, per cui un bambino deve aspettare di avere 18 anni e poi non è ancora finita. Io lo trovo orribile perché ha delle implicazioni sulla motivazione scolastica. Se viceversa un alunno si sente cittadino italiano a tutti gli effetti, così come succede, perché cosa ci dicono i dirigenti scolastici? Se anche non hanno la cittadinanza, sono nati qua, parlano italiano, sono assolutamente interessati alla scuola perché loro la vivono come strumento di emancipazione. Quindi che sia lo ius solis o lo ius scole, bisogna chiudere questa partita dello ius sanguinis che genera dei problemi. abbiamo bisogno di costruire una comunità dove chi vive qua si deve sentire ed essere parte della comunità italiana, io dico anche europea, ci tengo a questa specifica perché l'Italia è in Europa, quindi c'è la comunità italiana ma anche quella europea. e allora è molto importante che si vada in questa direzione, offrire ai bambini nati qui o che arrivano qui la possibilità di diventare cittadini al più presto possibile o anche immediatamente nel caso in cui siano nati qui, perché allora anche la scuola diventa motivante e noi così possiamo avere una possibilità con loro di lavorare decisamente meglio. Passiamo dalla proposta di legge a un provvedimento recentemente adottato. Dal prossimo anno scolastico fino a scuola secondaria di primo grado sarà rietato l'uso del cellulare e si torna al diario cartaceo. Come reputa questo provvedimento del Ministro? Un primo segnale, come ho già scritto su alcuni giornali, un primo segnale di un'inversione di tendenza che io da dieci anni che cerco di sollecitare. La cosiddetta scuola digitale è un equivoco, anche semantico. La scuola ha sempre avuto la sua tecnologia. Io faccio il bambino degli elementari negli anni 60 e noi avevamo ancora il pennino con l'inchiostro. Era molto divertente e direi anche molto pericoloso. Ricordo quando ferì un mio compagno. E poi si è passati alla penna, all'epoca alla lavagna d'Ardesia. Il cancellino, che era uno strumento di interdizione pedagogica da parte degli insegnanti usato appuntantemente. Anche io mi sono beccato tante cancellinate dagli insegnanti in quanto ero decisamente vivace. E poi si è andati avanti. A un certo punto arriva la LIM. Benissimo, uno strumento utile. Ma quando? Hanno incominciato a dire che basta con la penna. usiamo il tablet, addirittura come 5-6 anni fa diamo alla bambina di prima elementare lo smartphone e dico che questa è una deriva. Questo è pericoloso. Ogni cosa ha il suo tempo. Sulla base di quello che conosciamo e la penna serve per scrivere, per imparare a scrivere. È un movimento, ve lo faccio vedere, indispensabile perché è un movimento dal punto di vista neurologico insostituibile. Non è che se fai il criceto e ti metti a smanettare su un computer ottieni lo stesso risultato dell'utilizzare la matita, la penna, i pennarelli. Cioè la mano, la mano come diceva Maria Montessori. Ecco, quando si guarda il passato bisognerebbe guardare appunto a Maria Montessori non ad altre esperienze non certo altrettanto efficaci. Quindi smettiamola di parlare di alfabetizzazione digitale 0-6 anni. Ma cos'è l'alfabetizzazione digitale 0-6 anni? Ma stiamo scherzando. I bambini sono sensoriali. Le bambine hanno bisogno di agire con le mani. Io addirittura sono contrario o comunque scettico sullo spazzolino elettrico proprio per favorire al massimo l'utilizzo della mano come movimento primario che consente poi tutti gli altri apprendimenti. La base dell'imparare è motoria. E quindi se mettiamo bambini e bambine davanti a un videoschermo li roviniamo dal punto di vista neurocerebrale e poi si creano tutti quegli incipamenti che conosciamo bene diagnosi su diagnosi su diagnosi. Attenzione! Vediamo di tornare a fare le cose giuste e quindi è un primo segnale apprezzabile ma così ancora molto molto incerto direi abbiamo bisogno che la scuola torni ad essere una comunità di apprendimento e non una comunità digitale né tantomeno come nel caso della DAD una piattaforma digitale. Ecco, questo è business, non è scuola. Ecco, lei ha parlato anche di tornare al passato di guardare anche a figure importanti ha citato la Montessori. Appunto, si parla di un provvedimento questo che guarda un po' indietro ma non sarebbe bene prendere ciò che di buono c'era nel passato come il mutuo insegnamento della scuola di Barbiana in modo da far cadere lo stigma del copiare? Esatto, queste pratiche inerziali sono inquietanti si impara imitando con questa è una certezza che le neuroscienze continuano a restituirci i neuroni a specchio la sincronicità neurocerebrale non sono idee che qualche pedagogista originale propugna ma è quello che ci arriva dalla storia della pedagogia ma alla fine della fiera le scienze hanno confermato che senso ha continuare a insistere sull'isolamento degli alunni l'isolamento per cui non solo non copiare ma fate da soli chi fa da sé fa per tre ma stiamo scherzando è proprio nella condivisione che si creano quei substrati neurocognitivi che permettono di creare apprendimenti veri ma da sempre l'insegnante lo sa io spiego, spiego, spiego e non capiscono poi finalmente chiedo a qualche compagno di spiegarlo e capiscono e certo perché comunque il cervello adulto è diverso da quello dei bambini dei ragazzi c'è un bisogno proprio evolutivo di lavorare con i propri simili e quindi la scuola moderna la scuola moderna a differenza da quella del passato che era basata come dire sui monitori vi ricordate Vittorino da Feltre tanto per fare un esempio con Eric Pestalozzi costruisce le proposte didattiche basandosi sull'aiuto reciproco il mutuo insegnamento come lo conosciamo e io penso di essere anche un po' un esperto perché la mia tesi di laurea è stata proprio su quella il mutuo insegnamento nel Ducato di Parma e Piacenza una ricerca storica agli inizi dell'Ottocento con Pestalozzi Padre Girard e tanti altri creò le basi per appunto la scuola nuova da lì nasce anche Frabella in Germania e nasce l'attivismo cioè la creazione di esperienze concrete basate sull'aiuto reciproco quindi non tutto dipende dall'insegnante ma sono gli alunni tra di loro che organizzano processi di sostegno di sostegno reciproco allora questa idea che a scuola non si coppia è un'idea che non ha un substratto scientifico è ovvio che quando abbiamo una prova individuale va bene che sia individuale però non possiamo pensare che la prova sia mettere delle crocette mettere delle crocette l'apprendimento come ci ha consegnato il grande Howard Garner è applicazione e l'applicazione si impara lavorando insieme insieme agli altri io ho fatto l'alunno delle superiori negli anni settanta nel nel pieno come dire dello sviluppo pedagogico italiano noi facevamo compiti in classe assieme le lezioni le preparavamo in gruppo noi stessi c'era una tensione ovviamente c'era il gruppo degli insegnanti conservatori il gruppo degli insegnanti non era una questione politica ma che credeva in una scuola diversa e poi l'Europa è andata avanti noi purtroppo siamo tornati alla lezione frontale e dimenticando peraltro che l'Italia come dire è il paese di grandi figure come è stata citata prima Don Lorenzo Milani Don Lorenzo Milani recupera la tradizione del mutuo insegnamento che la scuola francese portò avanti tantissimo Rosé Cousinet Celestine Freinet e proprio per le contingenze particolari di Barbiana mise insieme queste esperienze dove chi sapeva qualcosa lo insegnava gli anni e cosa faceva Don Milani il regista non è quello che come succede si sgola l'insegnante è quello che fa lavorare gli alunni li fa lavorare li fa lavorare assieme chiaro che bisogna creare le condizioni per esempio fra un po' la scuola torna io dico dedichiamo i primi giorni di scuola a creare il gruppo classe con le attività socio-affettive le attività mutualistiche le attività di lavoro comune nel nord Europa l'inizio della scuola vuol dire che vanno a fare un campeggio un camping per rafforzare il senso di appartenenza alla classe bellissimo ecco noi invece mettiamo la gita scolastica come premio se poi la classe si è comportata male niente gita scolastica ma è all'inizio della scuola come qualcuno ha iniziato a fare che bisogna proporre questo momento outdoor dalla scuola dove si vive anche assieme due o tre giorni bellissimo e quindi si costruisce questo gruppo perché sarà il gruppo a sostenere i processi di apprendimento individuali non necessariamente l'insegnante in una sorta di one to one no così non funziona allora indubbiamente il ricupero anche del concetto di mutuo insegnamento tradotto indebitamente nella peer education che non rende nel modo più assoluto la forza della mutualità della reciprocità nel termine che abbiamo usato abbiamo usato da sempre in Italia anche con Don Lorenzo Milani e poi non dimentichiamo appunto che cosa vogliamo prendere dal passato io prenderei l'attivismo prenderei la Montessori prenderei Mario Lodi Don Lorenzo Milani Gianni Rodari Danilo Dolci ecco non certo la lezione frontale lezione studio interrogazione ma come si vuole riproporre ecco in una sorta di ritorno al passato ma non a quello pedagogico a quello cattedratico si vuole riproporre la predella no l'insegnante sta su cosa lo mettiamo ma scherziamo i tempi sono cambiati e quindi voler ritornare in una in un'epoca di di autorità non serve bisogna rafforzare rafforzare la come dire tecnologia pedagogica dell'insegnante non la tecnologia digitale proprio qua quest'estate è usata una notizia importante l'Italia è l'unico paese in Europa che porta gli insegnanti in tribunale per maltrattamenti agli alunni in questo momento ci sono c'è in Italia un migliaio di procedimenti giudiziari sono insegnanti che hanno agito in maniera equivoca nei confronti dei loro alunni altro che gli alunni che aggrediscono gli insegnanti ma cos'è questa faccenda è che si fa finta si fa finta che per fare l'insegnante basta conoscere la materia ma è una sorta di terrorismo pedagogico questo ma vuol dire mandare lo sbaraglio le persone ma bisogna dare all'insegnante un sostrato tecnico pedagogico educativo saper gestire la classe avere un repertorio tipo tipo il mutuo insegnamento tipo anche attività di varia natura che consentono al gruppo classe di lavorare ecco noi abbiamo parlato di una didattica dinamica di relazione all'interno della classe ma proprio la classe rappresenta un elemento fondamentale per costruire questa didattica dinamica e favorire appunto le relazioni che portano alla collaborazione tra l'alunni ma come si costruisce un setting scolastico dinamico esatto questa è una domanda chiave io ho avuto la fortuna di scrivere un libro anche di successo cambiare la scuola si può dove tutto il mio metodo viene esplicitato la base è ovviamente uno spostamento del baricentro in questo momento la scuola italiana è concentrata sull'insegnante come elargitore di conoscenza dobbiamo invece tornando alle grandi esperienze pedagogiche vedere vedere l'insegnante come organizzatore dei processi di apprendimento in altre parole conta di più ciò che l'insegnante riesce a predisporre che non la sua azione diretta in classe quando un insegnante entra in classe non ci dovrebbe più essere nulla che lui fa ma deve semplicemente saper gestire i processi i processi di lavoro fra fra gli alunni devono essere loro a lavorare se tu vuoi spiegare qualcosa per esempio sei un insegnante che ne so vuoi spiegare i viaggi su Marte benissimo ottimo non farlo fermati non fare uno spiegone magari con con la lima o qualcosa del genere fai in modo che siano i tuoi alunni sulla base delle domande maieutiche a scoprire ma cosa si sta cercando su Marte per esempio ma è vero che si troverà l'acqua ma allora fosse una volta ci sono state forme di vita che poi sono sono scomparse non è che facciamo la stessa fine di Marte anche noi sulla Terra se andiamo avanti così e queste sono domande e che permettono agli alunni di attivare no dei percorsi e quindi si muovono vanno a cercare intervistano e l'azione è di intervistare gli esperti è fondamentale nel processo di apprendimento e quindi è una scuola aperta aperta non bloccata come dire cristallizzata nello spazio puro semplice dell'aula una scuola che sa come faceva Don Milani che invitava tante persone a parlare con i suoi alunni oggi abbiamo internet abbiamo specialmente Wikipedia quindi strumenti per capire meglio abbiamo anche i libri di testo quando si vogliano adottare e che possono essere una risorsa l'insegnante aiuta gli alunni a muoversi all'interno anche di un mondo dove notizie vere e notizie false stanno diventando estremamente interagenti e quindi come sempre l'insegnante è una figura che offre ai suoi alunni un metodo non un contenuto un metodo un metodo di lavoro non semplicemente come si dice un metodo di studio no un metodo di lavoro per imparare anzitutto per imparare a vivere che resta l'obiettivo primario della nostra scuola come abbiamo detto all'inizio per gli alunni stranieri che devono necessariamente acquisire anche le norme sociali costituzionali del nostro paese e della nostra Europa Chiudiamo con un'ultima domanda oggi si parla molto di studenti con ansia da prestazione già dalla scuola primaria causata da una eccessiva competizione a tal proposito il mutuo insegnamento può essere considerato come uno strumento in grado di abbassare il livello di conflittualità della classe e migliorare il clima? Certo la conflittualità della classe è un dato socio-relazionale e per l'ennesima volta invito a gestire con metodi giusti noi ci lavoriamo da 40 anni e specialmente il sottoscritto ha passato una vita a cercare i metodi giusti per litigare bene ecco il metodo litigare bene lo trovate facilmente e quindi mi appello agli insegnanti perché venga venga come dire utilizzato ma la domanda si presta anche a una riflessione su quello che è stato anche il nostro convegno dove abbiamo detto a lettere cubitali la scuola non è una gara ecco adesso stanno tornando queste idee mortificatorie no? queste idee agonistiche voglio dire chiaro e torno la scuola non è lo sport è chiaro che nello sport se tu fai agonismo sbagli quello che la tua capacità è la capacità di riabilitarti a fronte di una sconfitta nel tennis nell'atletica nei giochi di squadra tu perdi e poi cerchi di però la scuola non è questo la scuola non è uno sport agonistico la scuola è un ambiente dove si va per imparare e lo devi fare nel migliore dei modi noi sappiamo che per imparare contano le esperienze concrete per imparare conta l'elemento sociale per imparare conta una valutazione evolutiva una valutazione che sappia vedere la crescita il miglioramento non mettere una sticella questa sticella la deve saltare il pesce come la simmia il pesce non salterà mai quella sticella nell'acqua come fa ecco quindi ogni alunno deve essere valutato sulla base come dire dei suoi dei suoi progressi non è come nello sport che metti una sticella no quella deve salta in alto vediamo chi salta più in alto e quello vince no a scuola non si vince a scuola ognuno cerca di migliorare se stesso cerca come dire nell'aiuto reciproco di arrivare al massimo delle sue potenzialità e per cui sono molto preoccupato quando si dice ah che problema c'è a bocciarli così si rafforzano buonanotte i bocciati spesso e volentieri entrano in uno status di depressione di mortificazione cioè bisogna ricordare che è il successo che ti dà come dire la voglia il desiderio il desiderio di andare avanti e come dire di fare meglio attenzione la scuola che propone la grande pedagogia quella chiamiamola progressista in senso in senso lato è una scuola faticosa non è una scuola facile la scuola facile è quella della ripetizione basta che tu ripeti quello che hai studiato quello che hai detto l'insegnante ripeti 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 ma questo è solo un esercizio di memoria la scuola vera ti fa lavorare quindi devi cercare le risposte devi avere delle domande devi accettare la frustrazione di lavorare insieme insieme ai tuoi compagni piuttosto che isolarti ecco questo è ciò che può permetterci di evolvere e di offrire appunto ai nostri alunni un futuro che non sia semplicemente tornare al al nozionismo e a un'idea di scuola che io la definirei archeologica no ecco per fare questo occorre che gli insegnanti siano considerati di più per la loro formazione per la loro attività che sia riconosciuto l'orario di lavoro che sia formalizzato ogni insegnante lavora una trentina di ore alla settimana formalizziamolo in modo che la preparazione in equip ecco bisogna lavorare di più in equip bisogna lavorare in compresenza sia riconosciuta quindi i cambiamenti da fare ci sono sono tutti possibili anche con l'autonomia scolastica si può fare tanto bisogna credere continuare a credere che la scuola sia come dire il punto di partenza per tutta la società se la scuola funziona funziona tutta la società grazie professor Novara per essere stato con noi grazie a tutti